Il nostro nuovo liceo che abbiamo appena fatto, nonostante le distanze, siamo riusciti a trovarci, abbiamo registrato... Ciao disco Dr. Black, ci vorremmo portare a casa con voi, ne abbiamo una roba per tutti. Anche se non avete le dottore ci chiamano sempre molto bene. Beh, c'è un più d'occhio che negli anni venti sterminava le continuazioni cotone. Un paragone l'avrò fatto con la città della città della città della vita. E non lo vengono! E non lo vengono! E non lo vengono! E non lo vengono! Grazie per la visione 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 Grazie per la visione